Sì, non si vedi tutto il mio destino. Fortuna, porca di... ...dipo! 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 io ho ciumato pure del gruppo si non lo so se mi ha visto mai con la moto pure il capaciente no, va bene va bene, il capaciente merce l'oposato ancora si ma vedi che è tutto modificato si ma siamo pure mentre con iarni si no si vieni vieni vediamo domani vieni a cosa viene con i paesi comunque ho visto abbastanza ah mi ho visto prima ma vedi che Bruno Bruno mi dici che sono l'unico che riesce a penare questa cavola di moto ma perché qui era la quando volete quando volete ciao 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 ok basta fare gli sceni allora praticamente ieri stavo lavando la moto e dopo che tipo l'ho fatto riscaldare si deve fare riscaldare la moto quando dopo che si lava per far uscire il popore acqua no è rimasto dentro il motore così e dopo che ho fatto tutte cose ho incominciato a uscire il mio olio da non so dove e ho incominciato a impanicarmi per poi scoprire che è stato chi si è rotto il bulbo però l'ho scoperto stamattina che è lunedì e perché l'ho portata stamattina dal meccanico quindi ieri sono rimasto senza moto e quindi sabato l'ho fatto uscire dal meccanico e domenica si è rotta di nuovo domenica mattina e domenica mattina Grazie a tutti. 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 Grazie. Oh... 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 Oh...